Una giornata infernale, quella di ieri, trascorsa nella città di Agropoli. Ci sono volute dieci ore per spegnere le lingue di fuoco che dal primo pomeriggio hanno interessato diverse località della cittadina. Il primo incendio è partito sulla collinetta che sovrasta la via del mare, al confine tra i comuni di Agropoli e Laureana. In un secondo momento l'incendio dalla località Marrota ha raggiunto la località Moio in direzione Monte Tresino e in tarda serata un altro incendio, sempre in località Moio, ha tenuto i caschi rossi impegnati per diverse ore a spegnere le fiamme. Presenti sul posto tre squadre di vigili del fuoco, i DOS, direttore delle operazioni di spegnimento, i vigili urbani, la protezione civile di Agropoli, l'Agropoli Cilento Servizi con l'autobotte e la comunità montana con i propri mezzi che non si sono fermati un momento nelle operazioni di spegnimento insieme al corpo dei vigili del fuoco. Ferito anche un volontario della protezione civile che è accidentalmente scivolato su una pietra nelle operazioni di spegnimento. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale. L'ambite è dalle fiamme, anche diverse abitazioni dove è stato necessario fare evacuare i residenti. Dieci ore infernali intense dove la paura da parte di tanti ha prevalso, ma grazie al duro e importante lavoro svolto dai vigili del fuoco e dalla protezione civile di tanti cittadini che si sono attivati per dare una mano con autobotti e mezzi agricoli propri. L'incubo è terminato. Un manto di cenere bianca e l'odore acre del fumo questa mattina ricopre le località colpite. Un colpo al cuore per la tanta vegetazione distrutta dalle fiamme.